Buongiorno, un omaggio di amabilia ai valori che durano nel tempo. La ratura meccanica ha un grande merito, quello di aver contribuito ad eliminare la fame in molte aree della terra aumentando la resa dei terreni da 2 a 4 volte. Terreni prima non coltivabili sono stati resi fertili ed ha liberato uomini ed animali da un pesante lavoro. Per questo la ratura diventa motivo di festa, dove trattori storici e più recenti si esibiscono in un appassionato carosello collettivo. Svincolata dalla limitata forza animale, la ratura diventa più profonda, anzi, a profondità regolabile a seconda della necessità. Si ottiene di conseguenza un miglioramento dell'aerazione del terreno, un migliore drenaggio delle acque a fine di evitare lo scorrimento superficiale, permette anche l'interramento dei residui culturali e consente l'ottimale posizionamento dei fertilizzanti nella zona delle radici. Riduce poi la nascita della vegetazione infestante e l'attività dei parassiti animali. La ratura meccanizzata, si può ben dire che è la protagonista principale della rivoluzione verde dei primi del secolo scorso, seguita via via dal miglioramento genetico, dallo sviluppo della difesa fitosanitaria e l'impiego dei fertilizzanti di sintesi, oltre ai nuovi metodi di semina e sistemi di raccolta sempre più effilaci. Grazie.